Onorevole Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a Crecchio per il suo tour elettorale. Le elezioni in Abruzzo vengono guardate con grande attenzione anche a livello nazionale. Sì, questo è il pregio e il difetto della politica, però io lo ricordo. In questa regione si vota innanzitutto per il presidente della propria regione. Marsiglio vincerà perché in questi cinque anni ha governato bene, ha riportato l'Abruzzo al centro delle politiche nazionali. Noi Moderati avrà, secondo me, un ottimo successo perché porta nella coalizione di centro-destra quel senso di responsabilità, concretezza, serietà, competenza che dovrebbero far parte della politica. Poi ci saranno anche riflessi nazionali come in tutte le elezioni, però quello che noi chiediamo è che innanzitutto si scelga chi deve governare per altri cinque anni. Abbiamo davanti una grande scommessa, per la prima volta poter dare continuità all'azione di governo e affrontare e risolvere ancora i tanti problemi che ci sono. Mi sembra che la settimana scorsa sia arrivato un segnale importante, anche dal governo nazionale con i 720 milioni di euro per il finanziamento, finalmente, della tratta ferroviaria Pescara-Roma. Ma, e lo dico senza voler polemizzare troppo, chi dice che è stata una mossa elettorale è un po' un ignorante, non conosce come funziona la pubblica amministrazione, in particolare quella centrale. Io ho fatto il ministro delle infrastrutture per arrivare a quel finanziamento, vuol dire lavorare, vuol dire far comprendere che quella tratta ferroviaria è una tratta strategica non solo per l'Abruzzo ma per l'intero paese. E questo mi sembra che sia un segnale importante. Poi abbiamo tante sfide davanti. Uno dei temi è la sanità, quello che portate avanti. La sanità è fondamentale perché è quella che permette ad ognuno di noi di avere una cura dignitosa. C'è il tema delle liste d'attesa, c'è il tema purtroppo ancora della migrazione. Io credo che non sia dignitoso che per farsi curare uno debba andare in un'altra regione. Ma queste sono le sfide che appartengono al buon governo. In questi cinque anni si è fatto ma si deve fare ancora di più. C'è il tema della scuola, del lavoro che qui in Abruzzo deve diventare anche una grande opportunità per i giovani. Insomma, siamo qui seriamente tutti insieme per lavorare. E credo che sarà un ottimo risultato anche per il contributo che noi moderati darà a questa lista. Dalla Sardegna abbiamo preso il 5-4%. Io credo che qui ci sarà una bella sorpresa.